Grazie a tutti. Maga di Gallarate. Questa sera Vittorio ci illumina per il discorso del rinascimento e soprattutto ci farà conoscere una nuova Roma. Cioè la cosa bella è di riuscire a parlare dei nostri luoghi ma anche capirli, comprenderli e avere il cuore per le bellezze. Per cui poi dopo ci saranno delle situazioni anche su Varese che magari Vittorio avrà voglia di dirci. Che questo libro sia utile è indubbio e che possa essere usato come una guida dell'architettura di Roma è altrettanto evidente. Le guide hanno diversi orientamenti, diversi tagli e Roma è una città che ha dal Cinquecento la qualità di guide straordinarie della Roma antica e moderna che convivono come in nessun luogo al mondo. Per quello che riguarda la mia scelta la Roma antica non è data nel senso che è implicita della Roma moderna quindi è una guida che inizia nel Quattrocento quando convenzionalmente si stabilisce che inizi l'umanesimo o il rinascimento e forse ancora prima con una sorta di protorinascimento che è il Trecento se immaginiamo che da Giotto e per quello che riguarda Roma da Pietro Cavallini l'arte e l'architettura moderna comincino nel Trecento, si dia una nuova idea del mondo, d'altra parte se uno va verso i criteri della letteratura sappiamo come una evidente anticipazione del rinascimento si era la figura di Petrarca, la figura di Petrarca è quella di un proto-umanista e quindi procedendo per arti comparate letteratura e architettura, letteratura e pittura, letteratura e scultura possono avere un processo temporale corrispondente quindi si può immaginare di anticipare, diciamo che qualche riferimento soprattutto nell'introduzione al Trecento romano che è un Trecento tardivo rispetto a quello fiorentino, non tanto nel proporsi e nell'esprimersi ma nell'essere rappresentato non essendoci un Vasari che codifica e struttura il percorso dell'arte moderna da Cimabue a Michelangelo e quindi con un primatto della civiltà toscana che equivale al primatto della civiltà toscana nella letteratura la lingua che noi parliamo, secondo quello che stabilì Pietro Bembo, Veneto nel 1525, è la lingua toscana non c'è un dialetto toscano, c'è una lingua toscana che è la lingua italiana e se questo serve a dire come tutto ciò che accade in Toscana abbia un primato ed è nella letteratura come nelle arti figurative allo stesso modo possiamo dire che per quello che riguarda l'architettura e la pittura a Roma dobbiamo immaginare una più lenta valutazione della critica che arriva a Pietro Cavallini, un pittore mirabile e pochissimo conosciuto soltanto ai primi del Novecento, come d'altra parte accade per molti fenomeni dell'arte che oggi ci appare tutta sulla stessa linea ma Botticelli e Carpaccio sono scoperte del secondo Ottocento quando sono in voga i pre-Raffaelliti e quindi si studiano gli artisti che hanno preceduto Raffaello come prodromici dei pre-Raffaelliti o dei Nazareni che sono pittori il cui riferimento estetico è prevalentemente perugino e lo stesso Caravaggio, come da più parti si racconta soprattutto in questi anni è una scoperta del secondo Novecento, tutta Lombarda a cui concorrono Roberto Longhi e Giovanni Testori di cui magari diremo qualcosa visto che qui oggi si è parlato di lui e quindi soltanto alla metà degli anni Cinquanta si comincia ad avere una percezione chiara dell'età barocca perché, ecco il punto, la codificazione vasariana ha un riflesso anche nella critica del Novecento la quale procede con una valutazione assolutamente sproporzionata almeno per quantità, se non per qualità, del Rinascimento il più grande storico dell'arte del primo Novecento che si chiama Bernard Berenson che è un lituano americano che arriva in Italia alla fine dell'Ottocento è la pittura del Rinascimento sono quattro libri importanti sul Rinascimento in Italia e una serie di volumi, volumi fotografici oggi possiamo dire prevalentemente che sono gli indici della pittura italiana la quale è catalogata in un processo di ripartizione geografica quindi l'arte del Nord, l'arte del Centro Italia e l'arte toscana che sono la parte più importante dell'arte che ha il suo punto d'arrivo in Raffaello e Michelangelo in quel momento l'età barocca di cui il capofila è Caravaggio è in piena penombra occorre aspettare la metà del Novecento perché essa si riaffacci fino ad oggi a diventare a pari grado un periodo, aggiungendo poi i diversi studi sul Settecento e poi il recupero dell'Ottocento integra i pittori del Rinascimento di Bernard Berenson quindi Vasari, Berenson e Rinascimento noi abbiamo una percezione dell'arte italiana che ha questa direttrice e la centralità toscana per cui tutti conoscono Giotto, Michelangelo, Leonardo e pochissimi conoscono Cosmetura Francesco del Cossa o Giovanni Boccati che sono artisti padani o marchigiani e questo è legato proprio alla capacità di promozione dell'arte italiana intesa come arte toscana che è evoluto dal aretino Giorgio Vasari che nasce appunto ad Arezzo e ha come suo idolo Michelangelo indiscusso fino a qualche giorno fa quando in verità per la protervia moralistica di un solo genitore neppure di un comitato di genitori ma di un consiglio di istituto che ascolta un genitore che andrebbe arrestato viene processato come pornografico il Davide di Michelangelo è una cosa che non avrei mai creduto ne credevo fosse possibile perché indica una posizione regressiva della cultura americana che insieme alla cancel culture che indica cose di cui non si può parlare una forma di revisione della storia della letteratura indica però anche una mancanza di consapevolezza delle proprie radici perché il mondo americano moderno nasce dal rinascimento italiano fenomeni rinascimentali sono anche i grandi viaggiatori i navigatori che vengono ricordati anche nel Palazzo della Civiltà un popolo di santi, poeti, navigatori i navigatori sono Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci che arrivano in un luogo che pensavano fossero Indie e invece sono l'America e l'America moderna l'America che è il punto più alto della democrazia e del capitalismo e dell'Occidente nasce dal rinascimento di cui cardine assoluto è la figura emblematica ed eroica del Davide Nudo che non ha nulla a che fare con la monografia temo che se fossimo riusciti a far partire i bronzi di Riace per New York forse avremmo la censura anche dei bronzi di Riace se si tratta di atti di demenza che sono ingiudicabili altro che come formi di regressione paragonaboli a ciò che gli americani più odiano e cioè alla cultura islamica terroristica che ha portato alla distruzione dei Buddha di Bamiyan ecco la censura della professoressa che ha insegnato lodevolmente il Davide di Michelangelo è pari al Chador è pari alla infiburazione femminile è pari a tutti i riti regressivi del mondo islamico a partire dalla distruzione dei Buddha di Bamiyan è la stessa cosa la distruzione dei Buddha di Bamiyan ha in realtà reso centrali due monumenti fino a quel momento sconosciuti cioè il destino vuole che la loro assenza appaia davanti a noi come una rinascita e questo è importante io ho suggerito all'UNESCO di non rifarli perché quei vuoti che io ho visto li ho visti ma l'ho visto i Buddha prima non sapevo che esistessero quasi come nessuno di noi quindi quella distruzione li ha evidenziati mi auguro che la censura al Davide serva ad allargare l'amore per l'arte italiana e per il rinascimento italiano in America e quindi come in ogni censura sia utile perché quando un'opera è censurata ha successo un artista un uomo di teatro un regista uno scrittore agognano la censura perché questa dimostra che hanno fatto qualcosa di immemorabile quindi io credo che la censura vada interpretata nel caso specifico come una propaganda al Davide anche se è un segno di regressione particolarmente grave puoi pensare che un genitore già di per sé un genitore può fare la dannazione dei figli perché i figli possono essere lovinati dai genitori e dalla scuola un figlio in libertà naturale come i miei viene benissimo cioè se voi lasciate i figli per i fatti di loro non gli rompete i coglioni vanno benissimo voi provate a educarli di loro venirete quindi la scuola e i genitori danno questo esempio pedestre di ignoranza di stupidità che ci fa riflettere su questa cosa volevo dire che in realtà Michelangelo è anche l'autore della cupola di San Pietro quindi all'interno del percorso che noi stiamo facendo questa sera per cui il simbolo più alto del cristianesimo ed è assai bizzarro che un genitore si permetta di contestare Michelangelo però è avvenuto ma è ancora più grave il consiglio d'istituto abbia licenziato la professoressa non c'è niente di peggio di un consiglio d'istituto prima ci sono i genitori poi c'è la scuola poi c'è il consiglio d'istituto le commissioni dei luoghi terribili in cui si fa qualunque orrore il consiglio d'istituto ha preso questa decisione mi auguro che questa donna abbia successo per quello che ha fatto ma d'altra parte quando penso al destino dell'architettura nel mondo in cui io esercito la funzione di sottosegretario c'è un istituto centrale del restauro uno penserebbe che quell'istituto investe ogni forma di restauro come se il restauro tocca varie cose il restauro tocca i dipinti tocca le sculture tocca le carte i disegni ma tocca anche le architetture ebbene non c'è un istituto del restauro per l'architettura non ci sono idee o codici io sto preparando adesso un testo di legge perché ci siano delle norme su come si possono muovere gli architetti non come vogliono non come vorrebbe per esempio il sindaco di Milano sala ma secondo dei principi che dicono puoi fare una cosa in un modo o puoi farla in un altro e da questo punto di vista la mancanza di un istituto del restauro architettonico è molto grave perché gran parte del danno che l'Italia ha patito è proprio per gli sbagliati restauri di architettura o la sostituzione di architetture quindi i metodi e gli indicazioni del restauro della pittura sono precise indicazioni che sono state codificate da Cesare Brandi e poi da Giovanni Urbani a cui si attengono i restauratori e questo vale anche per il restauro per la patologia del libro e questo vale anche per i restauri di tutto quello delle stoffe per l'architettura ognuno può fare quello arriva l'architetto ti pone un'idea cambia un pavimento smonta le sculture fa quello che gli pare e i limiti dipendono solo dalla consapevolezza di un sovrintendente che può dire fermati lì e cercare di attenuare lo spirito di distruzione che è proprio l'architetto contemporaneo il quale è contento quando può distruggere e ricostruire fa vedere che esiste gli piace fa vedere che esiste uno degli esempi più interessanti è la piramide dell'Uvra che chiaramente è una proiezione di un registro commerciale cioè serve per vendere le vetture in un museo poi vedi un sacco di cose per vendere sotto quella piramide c'è il commercio più terribile che ha reso il Louvre una specie di mercato e tutto questo è legato al fatto che non c'è un codice non c'è una limitazione tra restauro e nuova edilizia ma insomma sono considerazioni di ordine generale che non riguardano questo volume che peraltro arriva fino al nostro tempo cercando di capire come si possa fare per esempio nell'area dell'Euro di Roma un'architettura particolarmente inutile come la nuvola di Fuxas uno vuole vedere cos'è l'inutile e va lì dice cos'è l'inutile uno spazio inutilmente grande inutilizzabile e però anche quello evidentemente non c'è un limite l'architetto vuole arrivare a qualunque punto pur di negare un passato a cui farebbe bene a collegarsi e quindi il senso di questo volume è dare anche all'architettura una dignità di memoria storica quale ha parallela a quella della pittura e dell'architettura ecco ho fatto queste considerazioni spiegando il senso di questo libro che quindi procede secondo lo stesso schema del Berenson voi troverete l'ordine dopo l'introduzione che indica delle aree cioè l'architettura del 400 del 500 del 600 l'architettura barocca l'architettura del 900 si procede con un dizionario in ordine alfabetico in cui sono contemplati tutti gli architetti senza percorso cronologico che vanno da Leon Battista Alberti fino appunto a Renzo Piano o agli architetti che hanno lavorato nel 900 quindi attraverso questo procedimento voi potete andare a Roma e dire voglio vedere tutte le architetture di portoghesi valoroso architetto oggi novantenne che ha perseguito un culto dell'età barocca ma ha fatto anche la bella moschea che sia in occidente oppure voglio vedere cosa ha fatto Bernini e vai a prendere Bernini e vedi le opere quindi ti consente di cercare di ogni artista l'attività di ogni architetto l'attività nelle diverse parti della città e quindi di non seguire un percorso come ogni guida propone fatto per quartieri fatto per aree in cui vedi una miscela un palinsesto che va dal 200 o dall'età romana fino al 900 no tu segui un architetto e lo trovi opera per opera questa è la novità anche come guida ed è esattamente il dizionario dei monumenti e dei loro autori che ricorda il dizionario delle opere dei loro autori di Bompiani ora fatta questa premessa abbiamo una serie di immagini che indicano un percorso in questo caso cronologico e vorrei prima di intraprenderlo indicarvi una opportunità essendo noi nel nord Italia che è quella di fare un percorso verso un rinascimento che è un rinascimento non tradizionale non è il rinascimento fiorentino o veneziano è quello ferrarese tra l'altro anche la dottoressa Bianchi è di origine ferrarese io come bambi la bambi è ferrarese e io sono ferrarese e sono presidente della fondazione Ferrara Arte ho voluto portare a convimento liberandolo da architetti che volevano fare come sempre aggiunte superfettazioni sono riuscito a riformare il progetto per Palazzo degli Amanti che è uno dei monumenti più importanti del rinascimento ma è anche un emblema che riguarda i meno giovani di voi nella loro formazione relativa a un tema molto difficile in Italia che è l'arte contemporanea perché essendo un paese ricco di arte antica l'arte contemporanea è diventata un riferimento rispetto alla Francia alla Germania o agli Stati Uniti in tempi relativamente recenti e oggi abbiamo importanti musei io presiedo il Mars di Roveretto a Roma c'è il Maxi presieduto da Giulie poi ci sono il Madre e il Mambo a Napoli a Bologna e poi c'è il museo di Rivoli vicino a Torino c'è un arcipelago di musei di arte c'è il museo Maga di Gallarata che conoscete bene però sono sostanzialmente delle navicelle delle navi spaziali che sono state concepite anche con importanti architetture talvolta come il Maxi e il Mart in tempi relativamente recenti cioè dopo gli anni 80 per molto tempo l'Italia è stata refrattaria all'arte contemporanea che era appannaggio del mondo francese le grandi mostre erano a Parigi si andava apposta a Parigi io l'ho fatto da ragazzo però c'era stato un segnale un segnale molto importante per l'arte contemporanea che era partito nel 63 quindi molti anni fa agli inizi di un dopoguerra così florido come è stato il nostro nel pieno boom economico guarda caso a Ferrara dove un maestro elementare che si chiamava Farina avendo una certa intuizione e non una particolare cultura ma una curiosità come si ha per la moda per l'arte contemporanea ha aperto il celebre Palazzo degli Diamanti all'arte contemporanea quindi noi abbiamo avuto il privilegio solo noi ferraresi dal 63 al 93 quando in Italia non c'era nulla e sarebbero arrivati solo negli anni 80 i musei che vi ho indicato prima dal Mart al al madre e poi più tardi ancora già nel nuovo millennio il Maxi il Maxi significa proprio nel suo cronimo MA Museo Arte XX1 che è il ventunesimo secolo quindi è il museo che scavalca il Novecento ma l'età moderna l'età contemporanea hanno avuto un asilo a Ferrara per trent'anni quando neanche Milano come tuttora non ha un museo di arte contemporanea poteva essere competitiva poi da quando io sono arrivato nel 2006 a fare l'assessore a Milano l'attività di Palazzo Reale si è particolarmente sviluppata il museo del Novecento restaurato in maniera pittoresca da Italo Rota hanno in realtà dato almeno per il Novecento a Milano un'attualità poi il MUDEC ha continuato ma ancora non c'è un vero e proprio museo di arte contemporanea come c'è a Torino come c'è a Prato come c'è a Napoli come c'è come non c'è a Firenze peraltro dove il mondo del Rinascimento è ancora così forte che un museo di arte contemporanea ha senso appunto a Prato uscendo dalla città alta per entrare in una specie di pur interessante periferia cinese che è oggi Prato ma questo per dirvi che chi è nato a Ferrara ha avuto il privilegio di essere introdotto nell'arte contemporanea come non potendo neppure prevederlo per un destino singolare e quindi poi abbiamo tenuto il palazzo per tanti anni passando a una gestione di un mio compagno di scuola che non voglio ricordare e adesso è arrivata l'epoca mia che coincide anche con il restauro e la riapertura del palazzo quindi oggi chi va però ho pensato dopo tanti anni di arte contemporanea forse occorrebbe restituire Palazzo degli Diamanti alla sua identità cioè al Rinascimento e ho fatto una mostra che avrà quattro stagioni cioè andrà avanti per i prossimi tre anni che si chiama Rinascimento a Ferrara quindi il Rinascimento del Palazzo del Rinascimento del più bel Palazzo del Rinascimento del Nord Italia probabilmente e con i grandi maestri che sono stati restituiti all'attenzione nostra sempre nel Novecento grazie a un grande studioso che si chiama Roberto Longhi che è il maestro del mio maestro che nel 1934 iniziò a insegnare a Bologna e arrivato a Bologna gli parve giusto insegnare ai suoi allievi fra cui il mio maestro che era Francesco Arcangeli la grandezza dell'arte padana fino a quel momento totalmente latitante e di cui l'ultimo esponente come un botto come un fuoco d'artificio è appunto il milanese quindi padano Caravaggio ma il suo inizio nell'anno stesso in cui cominciò a insegnare a Ferrara fu la visita a una mostra voluta da Italo Balbo e da altri dell'epoca in Palazzo dei Diamanti dal titolo esposizione del rinascimento ferrarese che era un rinascimento sconosciuto e certo non paragonabile per notorietà a quello toscano cioè a quello di Leonardo di Botticelli però era piedo di grandi maestri che tali erano e tali sono che divendero ancora più grandi quando Roberto Longhi andò a vedere questa mostra che era stata pensata come una testimonianza celebrativa del quarto centenario della morte di Luno Vicoriosto che muore come voi sapete nel 1533 400 anni dopo invece di fare un convegno una conferenza una lettura tutto quello che si può fare ovviamente ma che la letteratura essendo un rapporto diretto con il lettore presuppone uno faccia da solo cioè uno legge da solo invece ti metti a fare convegni cose noiosissime relatori che leggono i loro testi invece di fare questo l'intuizione di Italo Balbo fu quella di come dire inalzarsi volare come era proprio suo e fare una mostra di pittura per onorare Ariosto probabilmente sarebbe stato insufficiente a rendere grande l'arte ferrarese se non ci fosse stato l'Officina Ferrarese che è un testo meraviglioso letterario di un grande scrittore qual era Roberto Longhi ma soprattutto una interpretazione delle opere che lui vedeva nella vostra con correzioni che però ha determinato la nascita dell'Officina Ferrarese cioè della scuola che non ha ancora grande notorietà ma di cui dopo 90 anni io ho voluto festeggiare con la riapertura del palazzo la meraviglia indagando artisti non del tutto approfonditi neanche da Roberto Longhi come Ercole De Roberti e Lorenzo Costa per cui è una mostra da non perdere sia per il luogo sia per l'importanza delle opere che sono venute in ogni parte del mondo e vi suggerisco andarla a vedere ma questo è contemporaneo a una lapide che io ho voluto dentro il palazzo che dice in maniera molto sobria qui nacque l'Officina Ferrarese nel senso che Roberto Longhi scrisse proprio in questi spazi il suo libro e ecco allora perché arrivo alla nostra giornata perché il 3 aprile è da lì davanti che vorrà venire a Ferrara oltre a vedersi il rinascimento si vedrà una mostra che indica i rapporti fra Roberto Longhi si torna a lui e i suoi allievi che non erano allievi qualunque perché erano Bassani Giorgio Bassani l'autore del Giardino dei Finzi Contini che stava nell'aula dove sono stato anch'io e ascoltava beato le parole di Longhi Pasolini che era nato a Bologna e ha fatto l'università dal 1940 a Bologna e Testori che non è stato allievo all'università ma che ha incontrato nel 1951 a Milano Roberto Longhi e ha capito l'importanza di Caravaggio e del 600 Lombardo quindi poi ha continuato le sue ricerche su Francesco del Cairo Morazzone e tanti altri a Morazzone tra l'altro va ricordato che un sindaco leghista ha buttato giù una casa meravigliosa che porta il nome Bianchi che nel nome del sindaco è anche e abbiamo visto distruggere lasciamo perdere perché altrimenti mi incazzo ancora già faceva schifo il palazzo comunale hanno pensato che non poteva essere meno competitivo il palazzo Bianchi quindi siccome era più bello l'hanno buttato giù questo è il concetto è una vergogna comunque capita di tutto chissà cosa hanno costruito di che orrore schifoso detto questo noi voi oggi avete parlato di Testori Testori è il punto d'arrivo della lezione di Roberto Longhi per la grande arte padana e Pasolini si è mosso in una mimesi in una sorta di transfert di Caravaggio cioè ha vissuto della sua vita la vita di Caravaggio ha fatto l'attore ha interpretato diventando il meraviglioso testimone delle scoperte del suo maestro Longhi Bassani è diventato un grande romanziere creando la mitologia della poesia dei giardini di Ferrara e Testori è stato drammaturgo scrittore giornalista e grande critico d'arte quindi ha preso un pezzo del mondo di Longhi e lo ha potenziato nelle sue ricerche su Seicento Lombardo ora questi tre personaggi sono celebrati tutti e tre Bassani Pasolini e Testori a Ferrara in rapporto con il loro maestro quindi è una mostra molto interessante una mostra letteraria quindi documenti che fa capire come da questo grande critico siano usciti tre formidabili personaggi in diversi settori attivi più diciamo polifonico Pasolini che è stato romanziere saggista regista interprete e anche attento cultore delle arti figurative dall'altra parte Testori che è stato grande storico dell'arte oltre che letterato e Bassani che ha ritenuto di tenersi invece soltanto nell'ambito letterario quindi Ferrara ha due buone ragioni per una vostra escursione vedere la mostra di Palazzo dei Diamanti e vedere quello che Longhi ha lasciato nella cultura italiana partendo appunto dai suoi saggi sui pittori ferroresi quindi qualcuno appunto mi ha detto che oggi qui si è parlato di Testori e mi sembra che sia importante non soltanto indicarne la tradizione Lombarda ma anche la tradizione Padana e in generale aver partecipato a questo percorso di recupero dell'arte chiamata della padania con l'accento sulla i che fu intrapreso da Roberto Longhi questo è sostanzialmente il rinascimento e l'idea a Firenze e soprattutto a Roma e a Roma soprattutto nell'architettura che il mondo antico non sia un mondo lontano che deve essere scavalcato o superato ma un mondo che convive con quello in cui si vive quindi rinascimento vuol dire che rinasce il mondo antico quello che prima di tutto intende questa concezione è Donato Bramante nel 1504 con cui possiamo iniziare con il chiostro di Santa Maria della Pace numero 4 lo vediamo ecco vedete questo spazio che è uno spazio di meravigliosa geometria osservate che quello che ha interpretato con grande rigore pensando al suo conterraneo che è appunto Raffaello e con Raffaello meditando a Piero della Francesca che è il grande pittore a cui Raffaello guarda e per capire Raffaello occorre di salire al suo capolavoro che è la pala che oggi sta a Milano la pala di San Bernardino di Urbino che è un modello di spazio ecco qui vedete che negli archi a tutto sesto del loggiato a Piero Terra sono come dire salendo prodotti attraverso il tema della bifora ma la bifora non è una bifora come era nel mondo gotico cioè una bifora con un motivo ad arco che è acuto ma invece con un architrave che fa sì che lo spazio della parte superiore sia diviso in due sia lo stesso del piano sottostante ma una colonnina crei una bifora ideale che articola il ritmo geometrico dello spazio del piano superiore vedete appunto che ogni parte del loggiato superiore è come se fosse una bifora che viene alternata ai pilastrini e al centro ha una colonna è un'idea è un disegno geometrico assoluto che indica come l'ordine antico gli ordini ritrovati nella architettura classica siano riprodotti in tal modo da Bramante il quale poi procede nel suo secondo capolavoro romano con un tempietto che è quello che poi ritroveremo in un altro capolavoro arrivato anche sobrera che è lo sposalizio della Vergine di Raffaello che tutti ricorderete avere un tempio sul fondo davanti la Madonna sposa San Giuseppe ecco il tempietto che sembra una miniatura è un edificio di dimensioni molto piccole con il loggiato che gira intorno e con la cupola che anticipa le cupole Michelangelesche è il capolavoro di Bramante a San Pietro in Montorio ora se pensiamo a quale forza abbia questo tempietto e a quale capacità di stimolare la fantasia di Raffaello che lo riprende appunto dietro lo sposalizio qualcuno ricorderà che vi sono esempi di architetture in prospettiva sui fondi dei dipinti di De Chirico che indicano come fino a De Chirico il modello di Bramante sia un modello che si ripercuote e si riproduce quindi siamo davanti al momento più alto della rinascenza cioè l'idea di far rimettere in piedi quello che era accaduto con le colonne con gli architravi con il motivo circolare che crea in questa invenzione un piccolo panteon ancora vicino a Donato Bramante va ricordato Baldassarre Peruzzi che è l'autore della cupola della chiesa di Sant'Eligio degli Orefici la vedete ecco questa cupoletta che ha una misura una proporzione di assoluta capacità di fare intendere come la cupola sia veramente l'idea del cielo sotto cui si proteggono i fedeli quindi l'idea di cupola è quella che protegge tutti i popoli cristiani e lo interpreta Raffaello con grande Baldassarre Peruzzi con grande equilibrio allo spazio di grandi terme o di loggiati romani si riferisce Raffaello poi numero 7 nella loggia di Villa Madama lo vedete guardate la meraviglia di questi spazi qui abbiamo lo spazio che noi vediamo anche le terme di Caracalla cioè quello che è diventato un tema di rovina ritorna nuovo e addirittura con la policromia nell'architettura del rinascimento che ne è una riproduzione del rinascimento vuol dire rimettiamo in piedi quello che di Roma è caduto e questo esempio mirabile di Villa Madama di Raffaello ce lo denuncia dopo il sacco di Roma quando Roma viene conquistata da Anzichenecchi e viene devastata intorno al 1527 30 qualche anno dopo un altro artista che è Baldassarre Peruzzi che avevo visto nella cupola di Sant'Eligio dà prova di sé in un palazzo in cui ho avuto il privilegio di abitare che è Palazzo Massimo Le Colonne numero 8 lo vedete fu io a far restaurare il partito vedete le condizioni sono molto buone perché quando fui sottosegretario la prima volta feci restaurare quei blocchi che non sono blocchi di pietra ma lo fingono la parte inferiore è di pietra la parte superiore è di stucco ma lo stucco di Baldassarre Peruzzi mima dei blocchi di pietra creando questo effetto che si muove anche su una superficie che è molto singolare perché è in curva in quanto qui c'era un teatro romano e quindi l'architetto contemporaneo segue il percorso lineare della facciata che si curva e nella parte inferiore pone il motivo delle colonne binate anche lì sotto ci sono una serie di nicchie meravigliose che sono degli spazi più belli della città di Roma ed è anche qui la testimonianza di accompagnare con l'architettura moderna il motivo della curva dell'edificio preesistente che è un edificio romano siamo nel 1527 e Baldassarre Peruzzi dà l'esempio più singolare di un'architettura che in qualche modo sembra seguire il movimento della città e della sua struttura romana un altro capolavoro che appunto si deve al malagorato autore del Davide che è Michelangelo che è Palazzo Farnese numero 9 che si articola in una prima ecco vedete la compostezza assoluta un edificio di una solennità nella parte inferiore noi abbiamo Antonio da Sangallo che è il primo architetto che è intervenuto in questo edificio la parte superiore vedete che c'è uno stacco quasi si salisse verso l'alto si deve a Michelangelo quindi i due primi piani sono opera di Sangallo la parte superiore è invece di Michelangelo l'interno contiene capolavori di Francesco Salviati che non so se qua siano i prodotti perché si tende prevalentemente a mostrare le architetture e se questa imponenza questa solennità della facciata di Palazzo Farnese sembra stabilire quasi un muro oltre il quale è difficile immaginare ma oltre il quale c'è il tevere quindi chi si affaccia all'interno del cortile del palazzo arriva a toccare il fiume che è alle spalle di Palazzo Farnese ancora Michelangelo lavora numero 10 nel palazzo senatorio lo vedete qua che è oggi la sede del comune del municipio di Roma ed è interessante che concepisca il palazzo il rapporto con i due palazzi dei conservatori in una dimensione urbanistica cioè sta componendo una piazza il palazzo non sta da solo come accade anche a Ferrara dove l'urbanistica e l'architettura convivono qui c'è un pensiero spaziale che ha al culmine l'esaltazione di un monumento antico quello che è qui appare singolare perché la foto è stata fatta in un'epoca vedete che al centro manca qualcosa di molto importante come in una specie di invenzione magliettiana è il Marco Aurelio oggi c'è un Marco Aurelio di cioccolata un'orrida riproduzione che fu fatta fare quando non riuscimmo a impedire a Roma di portare all'interno dei musei capitolini questo capolavoro di Marco Aurelio che oggi sta come su un trampolino di lancio messo lì dall'architettura di Aimonino che è un altro orrore che è stato fatto nei musei di Roma e in questo momento è stato portato via e non c'è ancora la copia mentre invece il significato della copia era comunque di conservare al di là del fatto che sarebbe stato meglio tenere l'originale che non ha patito danno nel corso dei secoli ma che tutto gira intorno a lui cioè la costruzione le architetture la stessa articolazione della piazza con questo motivo che vedete dei segni della pavimentazione servono a esaltare la centralità del monumento antico quindi il rinascimento è al servizio dell'arte romana e in questo caso intende quasi che Roma sia un museo all'aperto in cui quell'opera sul suo piedestallo viene valorizzata dalla architettura che le sta intorno quindi una concezione che esalta il monumento antico ancora vediamo di Pirro Ligorio numero 11 la casilla di Pio IV qui vedete come in un luogo non di attività pubblica ma di ritiro del Papa di Pio IV ci sia una formidabile raffinatezza e gli stucchi che accompagnano la semplice architettura ancora di impianto quattrocentesco lo vediamo in due immagini 11 e 12 ecco qui vedete vedete come a Palazzo Madama i marmi straordinari questi intarsi c'è proprio una esaltazione della civiltà antica che rigurgita da ogni parte cioè tu hai una colonna di porfido ed essa diventa pietra cioè si scompone si ricompone nulla va perduto e quello che era strutturale diventa decorativo come nel caso della pavimentazione ma sono marmi della città romana che viene riciclata che ritorna a vivere che rientra dentro la composizione dell'architettura classica si arriva poi all'inizio del manierismo con Jacopo Vignola e Giacomo della Porta numero 13 che compongono la chiesa del Gesù dove vedete che un'architettura molto atteggiata ha le due parti laterali che sono le navate laterali che all'esterno sono indicate con i due riccioli che crea una composizione che ha il suo precedente nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze ma siamo all'inizio di una composizione di facciata che è propria dell'età bagnerista che ha una serie di sorprese come quella che vediamo nel numero 14 che è l'entrata di Palazzo Zuccari ora quello che vedete è un motivo mostruoso come quello questa porta che è la bocca che si apre di una figura colossale che richiama il bosco di Bomarzo poco lontano da Viterbo dove vicino Orsini ha creato dei mostri nel paesaggio che sono la ricostruzione di una idea di città che poi verrà riprodotta in tempi moderni di un formidabile architetto che si chiama Tommaso Buzzi alla Scarsuola vicino a Terni che è un altro sogno ma già questo è un sogno nella città di Roma si vede questo mascherone che diventa un portale ed è un esperimento di tipo manieristico proprio appunto di Federico Zuccari ha una compostezza invece ritorna alla fine del Cinquecento Carlo Maderno nella chiesa di Santa Susanna numero 15 che vedete appunto crea una articolazione che sviluppa l'idea della chiesa del Gesù verticalmente con l'idea di avere la navata centrale con un portale più grande e le due navate più piccole che sono quelle laterali in tutto questo ci stiamo avviando dalla compostezza di queste facciate che sono le ultime facciate atteggiate in una misura geometrica a una serie di invenzioni formidabili che sono proprie della Roma più tipica che è la Roma barocca che viene rigenerata nella fantasia di Bernini e di Borromini e quindi dopo aver visto Santa Susanna ci avviamo al numero 16 che è una architettura purtroppo vediamo soltanto temo questa facciata qui sarebbe meglio averla vista anche da parte del cortile è la facciata di Palazzo Barberini in cui intervengono Maderno Bernini e Borromini e per capire che cosa sta capitando guardate che al piano superiore c'è un motivo prospettico di apertura della della dell'arco in un effetto che è quello di una profondità non vedete che là in alto rispetto alla semplice apertura delle finestre o dell'arco sottostante quindi tre ordini fino all'ordine che sta al piano di sopra Corinzio le finestre hanno uno sguincio per dare l'effetto di una profondità e quello l'intervento di Borromini che introduce un elemento non piano ma di profondità e che poi vedremo svilupparsi in una serie di altre testimonianze intanto andiamo a rivedere Maderno in numero 17 che è la composta facciata della basilica di San Pietro che come vedete si sviluppa in orizzontale e non dà spazio da questo punto di vista alla cupola che invece si erge come quella che copre tutti i popoli cristiani ed è l'invenzione di Michelangelo procediamo con un altro momento importante che è quello delle presenze di diversi architetti in piazza Navona al numero 18 ecco vedete che questo luogo di gioco di navi si chiudeva la piazza per far muovere in acqua delle navi è invece un'invenzione urbanistica molto importante di cui tu hai la chiesa di Sant'Agnese che è quella che si deve in parte a Reinaldi e in parte a Borromini la vedete lì al centro e davanti non è la prima ma la seconda è la celebre fontana dei fiumi di Bernini cioè gli architetti si muovono insieme per un progetto unitario in cui ci sono scultura architettura e urbanistica è l'effetto appunto fondamentale della chiesa della piazza navona con la basilica di Sant'Agnese in Agone Agone vale appunto perché c'era il gioco della naumachia cioè giocavano chiudendo i spazi laterali aperti riempivano d'acqua la piazza per far muovere le marche e un altro tema in cui si muovono due architetti è quello di Monte Citorio dove lavorano Carlo Fontana e Gian Lorenzo Bellini numero 19 ecco qui vedete una cosa singolare tutta la città di Roma fino a qualche decennio fa aveva il colore rosso che è il colore ottocentesco arancione che c'era anche in piazza Navona nel palazzo Panfili dove io tra l'altro ho abitato e poi fui quello che in una commissione scoprì che il colore era il colore del cielo un azzurro un azzurro grigio che abbiamo dato alla facciata del palazzo Panfili così è avvenuto nei restauri più recenti di Monte Citorio che questo rosso non lo vedete più era il rosso ottocentesco oggi il colore è un colore grigio trasparente grigio azzurro che è appunto il colore dell'aria che era voluto dagli architetti ma l'ottocento aveva privilegiato questo gusto per il rosso quello che si vede poco in questa immagine è che l'articolazione di questa facciata ha una serie di pietre di pietre sbozzate ma non poi portate alla finitura finale che sono l'effetto della roccia che Berlini vuole nel punto di congiunzione fra il blocco centrale e i due laterali dovreste vederlo c'è una superficie lo so se si possa vedere meglio ma non credo che è una superficie come di una pietra non lavorata e chi guarda con attenzione il palazzo di Montecitorio vede questo effetto formidabile di una pietra che è tenuta nella sua condizione non è portata a compimento avete anche un altro vantaggio che prima dell'orrore di tale Zagari architetto socialista la piazza presenta ancora tre gradini che erano i gradini voluti da Berlini e che sono stati invece coperti da una specie di collinetta per dare l'effetto della montagnola perché all'epoca Luciano Violante aspirava al Quirinale quindi voleva avere anche lui il suo colle e hanno fatto un intervento mostruoso che io ho molto contestato e comunque passando da questo primo timido Bernini che si vede appunto in questi motivi della pietra grezza passiamo al Bernini più aulico del numero 20 che è la facciata meravigliosa della chiesa di Sant'Ano della Quirinale la vedete ecco Bernini è questo è la capacità di muovere l'architettura dalla superficie piana a un rapporto concavo convesso e qua vedete lo sviluppo meraviglioso della scalinata dall'alto l'immagine è particolarmente favorevole e poi le due colonne che introducono alla chiesa con il motivo dell'architave curvo c'è quest'idea della curva che entra dentro l'architettura di Bernini che caratterizza il suo dinamismo architettonico il quale però è nullo rispetto a quello del suo antagonista Francesco Borromini numero 21 che vedete come nella chiesa di San Carlo alle 4 fonzale si sbizzarrisce la facciata è incontenibile non può stare ferma si muove in un rapporto fra concavo e convesso che è quello che fa muovere le due colonne in avanti e poi invece le due parti laterali all'interno e poi sopra l'architave è così alta è un ritmo frenetico quasi una deformazione alla Escher a cui ci comincia ad abituare la fantasia di Borromini e così vale anche per un'altra sua architettura che è a fianco della chiesa nuova che contiene i capolavori di Rubens numero 22 che è la facciata dell'oratorio dei Filippini la vedete qua vedete l'idea quasi orientale di Borromini di quel timpano e poi vedete anche qui le curve della facciata il piegarsi delle finestre il muoversi di un'architettura che sembra non poter star ferma sembra doversi agitare sembra doversi modulare ed è ancora poco rispetto al suo capolavoro che è il numero 23 che è vedete la chiesa di Sant'Ivo la Sapienza la cui cupola è una specie di spirale di gusto orientale come se fossimo a Isfahan in Persia e che io ho il privilegio di vedere ogni giorno perché la mia terrazza incornicia la cupola di Sant'Ivo io da destra vedo la cupola e l'imposta della cupola che porta verso questa specie di brivido di spirale che è l'invenzione più originale ed è proprio il simbolo stesso del barocco di una invenzione che non risponde a nessun principio statico conclamato ma ne inventa uno nuovo appunto sale verso l'alto ancora Borromini il cui percorso è particolarmente eccitante si mostra nella numero 24 nella volta della Cappella dei Magi nel collegio di propaganda fide ecco siamo nel tempio della propaganda religiosa della Chiesa Cattolica e vedete come lui inventa questo incrocio di diagonali nella cupola della volta di questo palazzo e così ancora vediamo il terzo maestro del barocco che è lo pittore e architetto Pietro la Cortona nel numero 26 che è la facciata della Chiesa dei Santi Luca e Martina la vedete qui con quella bombatura come fosse un mobile vedete che si rafforzano le parti laterali come appunto strutture portanti e si muove la facciata secondo una leggera animazione curvilinea rispetto alle facciate rettilinee che avete visto nel periodo cinquecentesco e ancora di più lui fa poco lontano dal punto dove siamo partiti che è il chiostro del Bramante di Santa Maria della Pace nella numero 27 facciata della Chiesa è una parte molto pittoresca della città con i bar e i luoghi dove si è vissuta la movida romana degli anni 50 e 60 e qui vedete appunto come lui anima la facciata e lì a sinistra c'è il chiostro che avete visto così limpido del numero 4 torniamo al numero 4 spostandosi di pochi metri si entra in questo spazio che è proprio il paradigma del rinascimento ma all'esterno c'è il paradigma dell'età barocca cioè l'idea di un pronao che è il numero 27 che è il numero appunto in forma totalmente curvilinea vedete che anima quella facciata e la fa diventare come uno spazio un'edicola della quale tu entri poi appena entri nella Chiesa vedi a destra le meravigliose Sibille di Raffaello che rendono questo comparto questo compendio di Roma particolarmente stimolante poi c'è Rosso Fiorentino tutto quello che uno cerca è in questa Chiesa dal primo rinascimento al rinascimento di Raffaello al barocco di Pietro la Cortona interessante è anche un'altra prova di Carlo Fontana numero 28 che è la facciata della Chiesa di San Marcello al Corso vedete anche questa c'è la tendenza a muoversi su superfici curvilinee o verso l'esterno o verso l'interno e qua ne vedete appunto l'esempio in San Marcello al Corso con le sculture di un pittore di uno scultore che è Francesco Cavallini che si muove in tutta la facciata ancora tra le cose memorabili c'è l'opera di un autore il cui nome coincide con quello del più illustre studioso di letteratura italiana che è Francesco De Sanctis che prima di essere quello che è stato è anche il nome di un grande architetto e urbanista che è il numero 29 l'inventore di questa fontana di questa specie di flusso di questa cascata che è la scalinata dell'eternità dei monti vedete che si tratta di un prodigio di urbanistica cioè l'idea di una scalinata che lega una parte della città cioè quella che sta nell'area di diciamo della fontana di via del babbuino e la parte superiore con trinità dei monti c'è questa specie di ascesa che è determinata da questa scalinata formidabile del De Sanctis vediamo ancora un'invenzione analoga e molto suggestiva poco lontana dal ministero cioè dall'edificio dei gesuiti nel quale noi abbiamo gli uffici che è la piazzetta di Filippo Raguzzini noto soprattutto per aver fatto numero 30 questo palazzo che è quello in piazza Sant'Ignazio davanti alla chiesa di Sant'Ignazio che è coronata dal soffitto di Baciccio e che è una piazza che si muove con questo modulo curvilineo anche ai lati purtroppo la fotografia non è abbastanza eloquente di far sentire che la piazzetta nasce proprio come non un'invenzione di una architettura di fronte alla chiesa ma di uno spazio modulato anche ai lati cioè è un esempio di urbanistica della città più ancora che di architettura ed è Filippo Raguzzini questo è il palazzo dove oggi sono i carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico vediamo ancora un altro palazzo che fronteggia quello del ministero della cultura che è il palazzo Doria Panfili con la sua importante collezione numero 31 che è il palazzo va nell'opera di Gabriele Valvassori qui vediamo la facciata su via del corso mentre una parte dell'edificio si sviluppa nella piazza retrostante che è quella appunto dove sta il palazzo dei gesuiti il palazzo il collegio romano notevole anche all'interno e anche per le architetture della sua sagrestia la facciata della chiesa della Maddalena numero 32 che si deve a Giuseppe Sardi è un architetto come dire che segue il percorso dei grandi della triade dei pittori dei scultori e degli architetti Borromini Bernini e Pietro La Cortona e inventa questo spazio come vedete che anche all'interno ha una serie di sorprese soprattutto nel disegno della sagrestia come dicevo notevole è il cortile numero 33 verso lo scalone del palazzo della consulta che è il palazzo che sta a lato del Quirinale che è un'opera di Ferdinando Fuga architetto napoletano che qui ci dà l'esempio di queste scalinate come dire incrociate che sono proprie dei grandi palazzi napoletani portato nel palazzo della consulta e poi finalmente una delle cose più travolgenti e inventive che è anche legato al tema dell'acqua a Roma che è quello delle fontane che è la fontana di Trevi di Nicola Salvi numero 34 io ieri la vedevo lì proprio dalle finestre che si affacciano ed è impressionante vedere questa pozza d'acqua e questi animali queste sculture che si muovono in uno spazio che è teatro non è più architettura è teatro è scenografia è invenzione e continuando vediamo numero 35 la facciata della Basilica di San Giovanni in Laterano di Alessandro Galilei vedete che qui il tema della facciata di San Pietro si articola soprattutto con questi grandi occhi questi neri profondi profondità del loggiato che però tengono la pertinenza orizzontale dell'architettura che è stata codificata appunto da Maderno nella facciata di San Pietro della Basilica di San Pietro anzi andiamo a vederla perché ne capiamo quindi il collegamento numero 17 ecco vedete questo che qui si sviluppa in maniera orizzontale ma con una cadenza di pieni e di vuoti diventa invece un prevalere di vuoti nella invenzione di Galilei numero 35 che opera ecco vedete che crea questa specie di groviera noi entriamo dentro la facciata che non ha quasi spazi piani a tutto a tutte soltanto loggiati andiamo a vedere una analoga architettura di Ferdinando Fuga numero 36 che è la Basilica di Santa Maria Maggiore vedete che il tema non è dissimile da quello della Basilica di San Giovanni Laterano numero 35 con un prevalere dei vuoti ma con un'articolazione un'articolazione più civettuola più mossa eccola qua vedete qui c'è una maggiore ordine e staticità e qui invece c'è una maggiore mobilità soprattutto nel rapporto dei timpani quelli triangolari e quelli circolari siamo in pieno 700 e andiamo a vedere un altro capolavoro di quasi esceriana articolazione che è di Gregorini e Passalacqua la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme numero 37 la vedete ecco vedete questa facciata piccola che poi si sviluppa molto ai lati nel convento e che è una articolazione della facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore e qui arriviamo a vedere la più notevole architettura del 700 romano che era ragione di pellegrinaggio soprattutto di Winkelmann ma di tutti i grandi viaggiatori che arrivano a Roma e che vanno a vedere tuttora difficile da vedere perché è privata la Villa Albani di Carlo Marchionni che è uno spazio mirabile nel centro della città di cui vediamo qui l'incisione di Piranesi ancora come la vedete con questa articolazione di giardini e questa solennità dello spazio architettonico ed è un'incisione del Piranesi del 1796 che ci dà il senso di qualcosa che non è costruita adesso come era di fatto ma sembra ormai arrugginita dal tempo cioè l'effetto di Piranesi è di rendere profondo nel tempo anche quello che è presente di farci sentire nelle carceri nelle sue invenzioni qualcosa che è come se fosse sempre stato lì che ha le stesse radici dell'architettura classica romana ancora vediamo un'incisione anzi questa l'abbiamo vista vediamo un'architettura di Piranesi che è anche architetto e produce la chiesa di Santa Maria del Priorato numero 39 eccola qua una piccola chiesa che sta in alto e ci consente di vedere lontano il paesaggio della città e che è un'architettura di grande semplicità di questo architetto visionario nelle sue incisioni che era Piranesi ma all'interno che purtroppo non abbiamo c'è una serie di elementi geometrici di sfere che danno il senso di un'architettura quasi massonica che Piranesi concepisce in questa chiesa di Santa Maria del Priorato vediamo adesso un altro capolavoro romano vedete quanta varietà in questa città numero 40 la piazza del popolo da un punto di vista un po' insolito e molto spazioso con le due chiese di Santa Maria dei Miracoli e Santa Maria in Monte Santo che sono le chiese gemelle nella postazione del tridente che è evoluto da Sisto Quinto e che però viene riarticolato della piazza di Valadie che è questo spazio enorme che diventa una specie di arena un luogo dove tutto può accadere ed è l'articolazione spaziale davanti alle due chiese vediamo poi invece oggi deturpata dall'ordida Arapacis di Mayer uno degli orrori che non sono riuscito a scongiurare nel mio mandato precedente che è la chiesa di San Rocco numero 41 ecco che vedete qui della sua semplice dignità oggi non la potete vedere così perché davanti c'è un muro una fontana una quantità di puttanate volute da questo americano che non aveva alcun rispetto per la precedente tecca dentro cui stava l'Arapacis che era la tecca di un architetto che si chiama Baglio Morpurgo ebreo tra l'altro non è stata rispettata Rutelli ha pensato bene di buttare giù tutto lui ha montato qua davanti un muro che copre a metà la chiesa di San Rocco e diceva Federico Zeri che questo architetto che io sono andato anche a cercare a New York per dissuaderlo conosceva Roma come lui conosceva il Tibet dove non era mai stato questa era la percezione che aveva detto questo arrivati quindi a limitare con questo capolavoro di Valadier violato dell'Ottocento entriamo nell'architettura unitaria cioè quando si può far diventare Roma come Torino cioè una città solenne statuaria ecco Giuseppe Sacconi che costruisce il Vittoriano questa chiamata macchina da scrivere che è dominante nella piazza Venezia e che rappresenta appunto il sacrario di Vittorio Emanuele II che vedete lì davanti con il tempo ci si è abituati a questa architettura che era evidentemente molto invadente e che è stata ancora irrisa nei libri di Alberto Arbasino quindi fino agli anni sessanta non era così considerata oggi ci siamo in qualche modo ulteriormente abituati a questa presenza così solenne e poi vediamo il numero 43 invece che questa meraviglia assoluta di Innocenzo Sabatini la Casa del Sole è un'architettura come vedete popolare una casa popolare ma costruita secondo lo schieva di un teatro con i diversi livelli per consentire a ogni piano di cogliere il sole quindi un'intuizione di un architetto minore ne troveremo notizia qui nel nel dizionario che però ha avuto una formidabile intuizione e quindi valeva la pena di riportarlo alla vostra attenzione l'ipote dell'architetto Costantino Costantini pratica l'apprendistato fra gli altri dietro Quadrio Pirani il suo corregionale viene assunto come progettista di case popolari di Roma nel 1918 diventando un architetto più significativo grazie a interventi in particolare a Burgo Trionfale Carbatella della Vittoria Testaccio Lomenzano Tiburtino e quindi quello che state vedendo qui che è appunto la casa d'età del sole cioè l'esposizione e diversi appartamenti a una stessa senza che l'uno copra l'altro da qui si passa al memorabile architetto siamo in piena età fascista che è la stagione più florida dell'architettura romana dopo quella del rinascimento del 600 che è quella che porterà all'elaborazione di un'area nuova della città che è appunto l'EUR per l'esposizione universale che poi non fu realizzata alle poste all'Aventino Pommano ad Alberto Libera che è l'architetto della casa di Valaparte a Capri numero 44 lo vedete questa geometria perfetta che sembra interpretare in architettura le visioni metafisiche di De Chirico è come se De Chirico avesse da un lato guardato l'architettura quattrocentesca quindi si fosse riconnesso a una tradizione che è quella della pittura classica di Piero della Francesca e dei grandi maestri del 400 compresi quelle ferraresi lui era stato a Ferrara e contemporaneamente sembra aprire a queste architetture di spazi vuoti che si troveranno poi nel film Il conformista di Bertolucci per esempio perché se lo ricorda e che trovano in all'Alberto Libera un interprete che è quello che qui si mostra nel Palazzo delle Poste a Laventino l'architetto il leader dell'architettura fascista che è Barcello Piacentini ci mette davanti invece numero 45 all'ingresso della città universitaria la Sapienza lo vedete con questo prono altissimo con le colonne che non sono modulate ma non hanno capitello e che è appunto il luogo degli studi alla Sapienza un altro luogo mirabile e tra i tanti monumenti significativi del fascismo è la Casa delle Armi di Luigi Moretti numero 46 lo vedete l'edificio è particolarmente uno dei tanti temi del restauro da compiere su architettura di questo momento ed è una delle responsabilità ancora significative che abbiamo come Ministero di non essere intervenuti ancora per restaurare questo capolavoro della creatura fascista mentre invece numero 47 tutti conoscete ed è un edificio emblematico come un colosseo quadrangolare il capolavoro del Palazzo della Civiltà del Lavoro di Ernesto Lapadula che è questo che vedete che inventa appunto questo spazio che ha la sua maggiore valorizzazione dal punto di vista angolare cioè non frontale si può vedere anche di fronte ma d'angolo si articola con questa apertura a ventaglio e dopo di lui arriviamo ormai nel dopoguerra al numero 48 con la formidabile elaborazione del cemento armato usato da Pierluigi Nervi nel Palazzetto dello Sport questa specie di tartaruga che indica una grande vitalità dell'architettura del Novecento che a Milano è ancora più espansa il secolo vero dell'architettura milanese è il Novecento Roma ha diversi momenti il Rinascimento il Seicento il Barocco e poi si arriva all'età fascista ma con formidabili testimonianze di cui l'euro è certamente la più importante qui vediamo appunto Nervi e poi subito dopo ideale suo allievo dicevo prima in un capolavoro numero 49 Paolo Portoghesi con Vittorio Gigliotti che creano questa moschea di cui vediamo l'esterno ma credo che sia più apprezzabile numero 50 l'interno vedete è riuscito in questa modulazione delle pieghe del cemento armato a riprodurre un tema proprio di Borromini che è uno dei miti della sua fantasia di architetto e di portare quindi il barocco della visione di un'architettura islamica della moschea con questo formidabile risultato che è tra quelli più memorabili del novecento a Roma si arriva poi ai nostri giorni con l'auditorium numero 51 di Renzo Piano lo vedete qui un'invenzione anche qui come di tre tartarughe che si muovono e ne vediamo l'interno anche numero 52 che è questo con la capacità di sonorizzare gli ambienti attraverso legni disposti in maniera utile per proteggere il suono e poi purtroppo anzi non purtroppo qui si è ancora che posso portare quello che ha condotto l'architetto Mayer a fare l'orrore della Rapacis è una sua buona riuscita che invece la chiesa di Dio Padre Misericordioso di Roma di Mayer numero 53 dove vedete questo motivo che si può discutere ma ha una sua identità una sua logica e ne vediamo anche l'interno numero 54 dove è come se avesse tagliato una fetta di cocomero quindi se ne vede una parte non ha compiuto l'intenzione non è un architetto compiuto insomma c'è sempre qualcosa che non gli riesce bene anche quando fa un'opera come questa accettabile poi vediamo numero 55 un'opera di Paola Rossi questa bella architettura vorrei dire neofascista che è il palazzetto bianco e poi si arriva all'architettura di cui ho firmato il contratto con Zahadid l'unico su cui all'epoca in cui feci il sottosegretario la prima volta io trovai un accordo perché cercai di tutto per impedire a Mayer di fare il Lara Pacis e non ci sono riuscito ho perso ho vinto invece a Firenze perché sono riuscito a non far realizzare poi è anche morto per fortuna la pensilina di Isozaki un altro orrore da pasticceria e invece ho ritenuto plausibile questo mausoleo dedicato all'architettura che è il maxi di Zahadid numero 56 lo vedete in due punti 56 e 57 sono spazi poco adatti alle esposizioni ma sono in realtà un'idea di un movimento architettonico che non si contiene che prosegue che sfugge come fosse un serpente l'idea c'è ma è piuttosto quella di un mausoleo e poi si arriva all'ultimo cimitero che è l'ultima architettura diciamo notevole o notata a Roma che è numero 58 nell'area dell'Eur la nuvola di Fuxas la vedete un'opera completamente inutile 58 e 59 uno spazio vuoto una specie di grande pasticcio però l'architetto Fuxas evidentemente è stato molto apprezzato e ci dà questa testimonianza conclusiva della decadenza dell'architettura a Roma avete visto come eravamo alti in certi momenti e questo serve a capire come l'architettura contemporanea sia meglio non vederla e anche non farla grazie bravissimo come sempre hai spiegato tutto in un modo fantastico aspetta se riesco ad accendere il mio qua aspetta si mi sentono no questo non va si mi sentono allora noi sai noi siamo al festival del racconto e ogni volta che facciamo qualche cosa degli eventi dobbiamo andare a casa con un racconto dentro il nostro cuore e questo tuo racconto è stato fantastico perché è un aroma vista in un altro modo per cui un aroma di bellezza un aroma di storia ma anche un aroma di cuore come tu l'hai anche descritta e non a caso forse siamo qua a Varese dove c'è un rapporto con gli estensi noi abbiamo il giardino estense abbiamo il palazzo estense hai perso qualcosa per cui c'è una una storia per cui importante legata a Ferrara a parte l'amore che ho io per Ferrara l'amore che ho voluto dare dando questi questo pezzo di Corriere della Sera di Perluigi Panza che parla dei capolavori d'arte a Ferrara il rinascimento degli est e mi hanno detto che è anche fatto un bellissimo restauro di Palazzo dei Diamanti che all'interno c'è una bella caffetteria c'è proprio un mondo diverso io mi ricordo Palazzo dei Diamanti con le mostre bellissime effettivamente che non c'erano neanche a Milano forse qualcosa a Lugano c'era era partito anche Lugano nella Svizzera qualche cosa poi adesso non esiste per cui vi ringrazio tantissimo di essere stati qui stasera penso che andate a casa con una voglia di andare a Roma con una voglia di vedere il rinascimento e magari di andare anche a Ferrara e di mangiare anche la tenerina di Ferrara che io sono capace di farla molto bene che sono golosa per cui sono una cuoca essendo anche golosa qui ci sono i libri che avete preso Vittorio può firmare autografare e grazie c'è qualche domanda qualche cosa a posto allora applauso bravo Vittorio grazie molto bravo grazie a tutti i sostenitori del Chiara c'è anche è venuto un salto il sindaco Davide Galimberti ha mandato una bellissima lettera a Tiglio Fontana che non poteva esserci e ti saluta tanto e spera di vederti presto per avere anche dei progetti nuovi abbiamo anche l'assessore alla cultura di Varese è arrivato Crespi del Maga e Bernardini e tutti voi se volete far firmare venite che lui è qua che può firmare benissimo il libro perfetto grazie